Sara è per via del cambiamento del tempo, è un giorno dopo che piove, fa freddo e il giorno dopo invece qui c'è una gran calura. E poi non dobbiamo dimenticare che quando ritorniamo in città è già quasi inverno. Per lei è diverso, lei viaggia soltanto con una piccola borsa, per uno o due giorni, soltanto. Per uno o due giorni, per due o tre giorni. E vedremo, vedremo quanto riusciremo a sopportarci a vicenda. Se la cosa le fa piacere, è certamente possibile e se questo piacere si trasmette anche a noi. Sì, forse potremmo andare insieme ad Amsterdam, forse lei ancora qui la settimana prossima. Ehm, gli scrittori di teatro non hanno tanto tempo né tanta tranquillità. Appena un'idea è stata elaborata... Eh sì. L'attività creativa non lascia un'attività facile. È proprio io questo che li rovina tutti. Ma pensavo che arrivata qui avrei indossato il mio abito estivo e invece ho addosso il mio capuzzo invernale. Allora, dicono che stiamo andando incontro all'era glanciata. Lei che cosa ne pensa di questa presi? Non lo so. Ma ci sono molti indizi in questo senso.